Una chiesa annaffiata dal sangue dei martiri ma che ha generato vita. Così Papa Francesco ha descritto la chiesa coreana nel saluto che ieri pomeriggio ha portato in Basilica Vaticana prima della celebrazione della Messa di Ringraziamento dei Vescovi del Paese per il suo viaggio e per la beatificazione dei martiri coreani. Francesco ha ricordato proprio la sua visita bellissima caratterizzata dalla fede e dallo zelo dei fedeli. Ha poi evidenziato l'importante ruolo dei laici che per due secoli hanno portato avanti il cristianesimo in Corea e così li ha invitati ad essere coraggiosi come allora. Poi il Papa ha messo in guarda dal benassere religioso, dall'annacquare la fede perché è quello il momento in cui arriva la tentazione del male. Non dimenticatevi, ha detto, che siete figli di martiri e lo zelo apostolico non si può negoziare. Voi siete chiesa dei martiri e questa è una promessa per tutta l'assia. Andate avanti, non molare, niente di montanità spirituale, niente di un cattolicesimo facile, così senza zelo, niente di un benessere religioso. Amore a Gesù Cristo, amore alla croce di Gesù Cristo e amore alla vostra storia.